Dopo George and Chico Freeman dal CD All in the Family è il momento di passare ad altre contaminazioni del jazz, in questo caso del tango e passiamo appunto al gruppo Sir Tango. Il gruppo Sir Tango ha realizzato un nuovo CD intitolato El Barrio, veramente molto bello con delle composizioni originali veramente interessanti e poi anche un paio di arrangiamenti molto stimolanti e originali di pezzi di Astor Piazzolla. Ma la cosa interessante è che si siano messi in gioco anche proprio con composizioni originali che sentirete sono molto interessanti, molto belle. Il gruppo Sir Tango è composto da Ivano Biscardi alla fisarmonica, Bruno Aloise alla chitarra, Virginio Aiello al pianoforte all'organo El Monde e poi Corrado Aloise alla batteria. Il pezzo che ci ascolteremo stasera è intitolato Fugato ed è una composizione originale di Ivano Biscardi e Virginio Aiello. Dal CD El Barrio buon ascolto con Sir Tango. Dal CD El Barrio buon ascolto con Sir Tango. Dal CD El Barrio buon ascolto con Sir Tango. Dal CD El Barrio buon ascolto con Sir Tango. Dal CD El Barrio Buon ascolto con Sir Tango. Dal CD El Barrio buon ascolto con Sir Tango. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.